un saluto a tutti ragazzi da messi 91 siamo su jump force e questa è l'ultima parte della trama principale siete pronti per il gran finale con il botto e andiamola allora che stiamo qui a perdere tempo fa chi è questo aizen vero che palle non fare male ad hancock maledetto tu eh sto ditino ok allora è fatta non hai speranze coso è quello vero come ma non mi interessa spacchiamogli la faccia lo stesso di se ne frega ma guardate se devo combattere con sto coso a che cacchio ma tu guarda se non devo avere rucca per far spazio a quel coso lì ma che cacchio sapi che mi è colpito solo perché l'ho distratta da aizen io te lo dico eh solo per quello mi è colpito maledetto vieni qui non l'ho preso sì va bene arrivederci eh maledetto anzi maledetti che vi fate combattere con quello invece che la mia rucca porca miseria mi detesto prego prego ora ora ma mica lo colpisce eh dai con sta cosa porca miseria quanti imparerai che non la fai non mai ci rinuncio ehi 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 ok arrivo arrivo posso più correre però io perché sono stanchissima ehi ehi perché miseria se se le prendi brutte adesso mamma mia se le prendi brutte dai vai coso ah cacchio erano non le varmi e va bene e va bene ho niente e niente gliela faccio fare stavolta perché con sto tizio che ha cambiato non ho fatto un tempo a fare niente ma guardate guarda che cosa succede che cosa succede qui sta cosa ma avete detto che se la tengo premuta funziona sta facendo niente altro che non ha fatto assolutamente nulla va bene ti ha l'oraico l'oraico prego almeno uccidilo fai qualcosa di produttivo e uccidilo niente ancora vivo guardate se io devo rischiare la mia esistenza perché lui fa fatica ad uccidere il suo nemico maledetto Aizien ma quindi lo stava controllando contro la sua voglia non voleva essere controllato strana sta cosa cioè non mi pare la persona che si fa controllare così facilmente ecco lui anzi ho visto passare i nemico robin l'ho vista eh quella era robin ruffi ruffi Chaggingami Trunks, Vegeta, ma poi non riconosco gli altri Riconosco Trunks, Vegeta, Goku Rufy con il Gear Freezer Che bello, hanno messo gli scandi i fumetti Te lo la un altro E che palle, fatti da parte Cosuce, Giallite Ah, grazie Goku Grazie per averlo sottolineato Sono io quella difficile da Ah, ok Se non mi uccide va bene, gli spacco la faccia Che problema c'è? Anche senza quel cubetto del cacchio Gli spacco la faccia Siamo fichissimi noi Pensavo mi uccidesse, vista la trama di sto gioco Mi aspettavo di tutto Questa c'è? Questa c'è? ...doltre in questo modo, ci sono un'energia forte. Mi ha creato un'acqua di Cosmic Cube, e mi ha creato un'energia, e mi ha creato un'energia, e mi ha creato un'energia. Tu eri in mezzo di prima di prima. Non lo so, non lo so, non lo so. Fatevi da parte Non mi servono cubetti Lo picchio uguale Cosa che posa del cacchio Cosa fa cosa fa Non so come combatte il problema è questo Che cacchio Ti prendo così impari Non ho attacchi speciali E allora non mi serve caricare energia Non lo farai Guarda qualunque cosa tu voglia fare Non te la farò fare Non te la farò fare Qualunque cosa tu voglia fare Non la farai Non mi servono i cubetti ripeto Per menare uno come te E dai Non l'ha ancora capito che non la carica l'energia Sto aggeggio Volevi eh E invece Cacchio mi ha colpito Salut Oh ma guarda un po' L'anello debole senza poteri ti ha battuto Dai lasciate che me la tiri un pochino Mi hanno insultato fino ad ora Come non potete sconfiggerti L'ho appena fatto Che cacchio Ma io ho vinto Laito dove sei Eccolo Laito Bravissimo lui Perché è diventato antiproiettili Da un momento all'altro Scusa Beh Ok ora sono interessata Cosa fa cosa fa Ma non mi serve il cubetto Ti ho già fatto vedere che non mi serve il cubetto Beh ma che è sta cosa Scusa Tirano fuori Mettono dentro Fanno tutto loro Fanno Cosa diavolo sono io Scusatemi eh Mi sento un pelito violata in questo momento Se devo proprio essere sincera Scusa 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 ... Mi sono vestita giusta per l'occasione, guarda col papillone, guarda come siamo belli. Fatta? Siamo bellissimi noi. Abbiamo un collo orribile, però siamo belli. Mamma mia, se gli spacco tutto il naso. Ah no, non ce l'ha. E quindi loro cosa fanno? Guardano sul grande schermo? Che tristezza. Povero Rufy, è tutto rotto. Ma lascia sta la Genkidama, ma perché deve sempre essere quella la soluzione di tutto? Perché? Deja vu, amico mio. I've been in this place before. Ma che posa è quella lì di combattimento? Mani in alto, cos'è? Ah, che cacchio. Guarda il sorrisetto beffardino, l'ho imparato da Naruto questo sorrisetto. Ma posso combattere? Dai, per favore. No? Niente. Ma ne manca un pezzo, Nani viene dopo. Dov'è Ken? Fagli vedere tu come si fa. Ken, dove sei? Hai lisciato, Goku. Che palle. Ora me l'assorbo tutta io, guarda, eh. Ma che cacchio. Ci sono preso veramente? Mi fate combattere almeno stavolta, per favore? Oh, finalmente. Ma quale posa da deficiente. Ma chi che l'ha scelta quella posa lì? Ma è ridicolissima, porca miseria. È veramente ridicola, è imbarazzante. Ma tu guarda se uno deve combattere con l'alto l'alciudore, ma porca miseria, ma guarda questo. Non ti faccio caricare l'aura, ok? Non lo farai. Yeah. Mamma mia, vorrei far notare che non ho preso nemmeno un danno. Nemmeno un cacchio di danno. Ma non è tanto per tirarmi. Io faccio schifo di picchiaduro, lo so. È per come è strutturato il cacchio di gioco. Cioè, percepite che è strutturato male, porca miseria. Cioè, per favore? Laito, cosa fai? Togliete quella cosa dalle mani di Laito. Non perché sono un megalomane del cacchio. Epilogo. Abbiamo finito la storia, ragazzi. C'è Trunks, che cacchio. Speravo di non vederlo più. Speravo di non vederlo. Lascia fare, Laito. Lascia fare, Laito. Quindi mi siedo sulla sediola? Gliela, sediti sulla sediola. Gliela, ti prego. Niente. Una cosa volevo fare, sedermi sulla cacchio di sediola e fare il rettore fiero. E invece niente. Sono finiti? Alleluia, mi stavo addormentando. Non ho potuto neanche schipparli, che palle. E niente. Abbiamo finito la trama principale. Quello che penso di sto gioco, credo di averlo detto fino alla nausea. Cioè, è bello finché lo giocate. Le animazioni dei combattimenti delle special sono bellissime. Tutto il resto fa schifo. Cioè, tutto il resto, tutto il resto fa schifo. Dalla creazione del personaggio alla personalizzazione. Le animazioni delle varie scene, della trama. Tutto quello che non è combattimento fa schifo. Se poi ci aggiungiamo anche che gli unici tre personaggi esclusivi del gioco, che erano i cattivi, non erano manco giocabili fino a poco tempo fa, questo gioco è l'apice dello schifo. Cioè, è bello da giocare e tutto il resto fa schifo. Comunque, come sempre, vi ricordo di lasciarmi un commento, un like ed iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Jump Force non finisce qui perché abbiamo una miriade di secondarie da fare. Piano piano le faremo. Quindi ci vedremo con il prossimo video. Io vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti. A presto.